Dialogo Adam è molto attento in classe e nelle ultime settimane ho notato un miglioramento. Le mostro l'ultima verifica che ha fatto. Ha fatto pochi errori e sono tutti legati a sbiste. I concetti li capisce bene, ma la sua ansia gli impedisce di dare il meglio di sé durante i compiti in classe. Mio figlio è sempre stato molto timido. A casa studia molto e non ho bisogno di ricordargli di fare i compiti, ma a scuola sembra perdere la sua sicurezza. Sono preoccupata. Si può fare qualcosa? Adam è un alunno molto sensibile. La timidezza fa parte del suo carattere, ma vedrà che con il tempo e con l'amicizia dei suoi compagni acquisirà più sicurezza nelle sue capacità. È un ragazzo in gamba e già comincia a dimostrare i suoi talenti durante le lezioni. La mia collega Marta mi ha detto che è molto portato per la storia e l'italiano. Ho notato che quando torna a casa mio figlio è molto frustrato dagli scarsi risultati ottenuti in alcune materie. Sia io che mio marito non gli facciamo pressione, ma temo che in futuro svilupperà numerose insicurezze. Non deve preoccuparsi, signora Rossi. Suo figlio si comporta bene, ascolta le lezioni e fa del suo meglio durante le verifiche. Sono contenta che Adam sia bravo in classe, ma si relaziona con i compagni. Non ha molti amici fuori dalla scuola e tende a stare a casa da solo e a giocare videogiochi. In questi mesi ho notato che Adam, nonostante la timidezza, sta insieme a compagni durante la ricreazione. Non parla molto, ma è un ottimo ascoltatore e gli amici lo cercano sempre. Durante educazione fisica ha dimostrato una certa bravura nel gioco del calcio e si è inserito con successo nella squadra dell'istituto. Ha un carattere un po' chiuso, ma non ha paura di socializzare e si integra bene con i compagni durante i progetti di gruppo. Non si è mai dimostrato aggressivo e anzi è molto maturo per la sua età e riesce a calmare ogni tipo di litigio. Sono contenta, ma devo dirle una cosa. L'anno scorso Adam ha passato dei mesi terribili a causa del bullismo. Il suo compagno di banco lo prendeva sempre in giro perché portava l'apparicchio per i denti. Quando tornava a casa mio figlio piangeva. Ora non lo fa più, ma lei ha notato qualcosa di strano. Purtroppo Francesco, il compagno di banco di Adam, ha mostrato un carattere aggressivo fin da subito. Abbiamo parlato con i suoi genitori e insieme stiamo prendendo provvedimenti. Da qualche tempo viene seguito dallo psicologo della scuola. In classe sono molto attenta e da un po' di tempo non vedo più questi brutti comportamenti. Bene. Maestra Sara, posso essere d'aiuto in qualche modo? Certamente, signora Rossi. Le difficoltà di suo figlio sono legate alla distrazione e alla poca fiducia che ha nelle sue capacità. Quando è a casa, lo aiuti con i compiti e ascolti quello che ha da dire. Come maestra posso aiutare Adam in classe, ma sono i genitori le figure che possono contribuire maggiormente a far superare gli ostacoli. Ha ragione. Ascolterò il suo consiglio. Grazie mille. Arrivederci. 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 Il colloquio di lavoro 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 Marco, per esempio, mi ha detto che è molto portato per... Chiedevo, chiedevo, è molto portato, nexed fi, ad i ibarra. Nexed fi, inno, shatter, jidden, fi chagat mo'ayena. Canno, per un kool, inno, shatter, bil fitra, fi hada il maggiore. Wel, om, tu kool, ho notato che quando torna a casa, mio figlio è molto frustrato dagli scarsi risultati ottenuti in alcune materie. Ho notato che quando torna a casa, l'akad laxat, inno, ibni, عندما ioud ila il manzil, yukun mohbetan jidden, ok? È molto frustrato, bi sabab, netaiguhu seji'a, fi ba'dal muad. È molto frustrato dagli scarsi risultati, risultati hiya, al-nateej, ottenuti in alcune materie, materie hiya, al-muad ad-derasiyya. Materia, madda, materie, al-muad. Sia io che mio marito non gli facciamo pressione. Ana, wazoggi, la nidgatale. Nulli facciamo pressione. Ma tamo, che in futuro, sviluppera numerose insicuretze. Fa l'am khaifa jidden, وتقول, ولكنni, a khaf, min'an'o si yusab, bifuqdana atticafi nafse, fi, jowaneb, adida, fi, fi, l-mustakbar. Fa, min'a, tabiye, jidden, inno, al-am, t'khaaf, t'aclac, min'a, soluk, ibnaha. Fa, l-mudarrisa, t'uqool, non deve preokuparsi, signora Rossi. Lassi bihaja ilal-qalak, ya sejida Rossi. Non preokuparti. Yani, idha ente turida an tukulli šax la taklak, o, leysa honak haja lil-qalak, non kentukul, non preokuparti, non preokuparti, o, non si preokupi, bitarek arrasmiye. Suo figlio si comporta bene. Ibnuki Hasanattasarruf Ascolta le lezioni e fa del suo meglio durante le verifiche. weiweli doroos ahtimamah. Yani, hu biisli jayda athnaya doroos. Kama inuhu yibdi l'kisari juhde khilal al-akhtibarat. Walumta jaub sono contenta ki adam siya bravin klasa. Ano sa'idha inu adem šاطur fiil madrasa. Inu adem yibli belāan hasena fiil-saf. ma si relaziona con i compagni. fiil-saf. 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 walaab al-akab al-vidio. Adi esbaha t'halat il-kathir min ash-habab. Al-muallima t'jaub. in questi mesi ho notato che adam nonostante la timidezza sta insieme i compagni durante la rikreazione. rikreazione laqad laqad laahat khilal al-shuhura al-kaliila al-madia inu adem yakdi waktahu ma' zumela'ih bils-saf athnā al-fusha berrugum min kounuhun khajul. tamam? quindi durante la rikreazione rikreazione ta'ani al-fusha non parla molto ma è un ottimo ascoltatore e gli amici lo cercano sempre innahu la yathadath kathiran walakinahu mustama' jayyid wazdaka'ahu da'iman ma yathatall'ahun ila sohbate yani bibhahatu anhu fa bidhahabu wa yathadathu ma'u o yilāabu ma'u ma bidhrukuho shle wahdo yani durante educazione fisica di shufna wal-kulna l'educazione fisica hiya al-tarbiya al-riadie ha dimostrato una certa bravura nel gioco del calcio e si è inserito con successo nella squadra dell'istituto athnā l-mudrisa Ha un carattere un po' chiuso C'è un carattere chiuso Non ha paura di socializzare E si integra bene con i suoi compagni Integra durante i progetti di gruppo Non si è mai dimostrato aggressivo E, anzi, è molto maturo per la sua età E riesce a calmare ogni tipo di litigio È un carattere un po' chiuso E' molto maturo Nadegg, giuddin, maturo Riesce a calmare Riesce a tia a nyehadi L'anno scorso Adam ha passato dei mesi terribili a scuola A causa del bullismo Il suo compagno di banco Lo prendeva sempre in giro Perché portava l'apparecchio per i denti C'è un compagno di banco C'è un compagno di banco Ora, non lo fa più Ma lei ha notato qualcosa di strano? Chalian لم يعudi a fare ذلك ولكن Halla ha chatti أي شيء غير matad o أي شيء غريب يعني strano ha noto غريب Lo prendeva sempre in giro يعني كان يحك منه كان يغيظ كان يستفز يعني Purtroppo Francesco il compagno di banco di Adam ha mostrato un carattere aggressivo fin da subito لِلْأَسَفْ لَكَدْ أَذْهَرْ فَرَنْسَسْكُ زَمِيلْ أَدَمْ فِي مَكْتَبُ الدِرَسِي زَمِيلْ أَدَمْ طَبِيَا عُدْوَانِيَ مُنْدُ الْبِدَيَ Abbiamo parlato con i suoi genitori e insieme stiamo prendendo provvedimenti لَكَدْ تَحْدَثْنَا مع الطبيب al-nafsi in classe sono molto attenta e da un po' di tempo non vedo più questi brutti comportamenti أنا شديد تَلْحَرْسِ فِي أَصَّفْ وَلَمْ أَرَى تِلْكَ تَسَرُّفَاتْ أَسْيَئَ مُنْدُ فَاتْرَ Comportamenti يَسْلُوك وَلْأُمْ تُكُول Bene Maestra Sara posso essere d'aiuto in qualche modo? جَيَدْ هَلْيُمْ كِنُونِ المُسَادَ بِيَيْتَرِكَ أَيُّهَ تَلْمُعَلِّمَ سَارَ وَلْمُعَلِّمَ تُكُول certamente signora Rossi بِتَأَكِيدْ سَيِّدَ رُسِي Le difficoltà di suo figlio sono legate alla distrazione e alla poca fiducia che ha nelle sue capacità inna su'ubat allati yu'ajihuha ibnuki mutallika bitashat talintibah وَنَقْس ثَكَتْ ibnuki fì kodirate le difficoltà so'ubat distrazione 20 talintibah quَلَّ تَثَكَ poca fiducia quando è a casa lo aiuti con i compiti e ascolti quello che ha da dire عندما يكون في المنزل سَعِدِهِ في وَاجِبُ الْمَنزِلِ وَيْسَمَعِ إِلَا مَالَ دَيْهِ لِيَا كُولَ كَمَا أَيْسْرَ يَمْكِنُنِي مُسَعَدَةَ آدَم في الصف ما sono i genitori le figure che possono contribuire maggiormente a far superare gli ostacoli ولكن الوَلِدَيْن هُمَا أَكْتَر مِن يَمْكِنُهُمَا المُسَعَدَةَ في تَدْلِيلَ العَكَبَات وَالْأُمْ تِجَوَبُ الرَّجُونَ أَسْكُلْتَرَوْ إِلْسُوَ كُنْسِلُّ أنتِ عَلَا حَكْ وَسَأْسْتَمَعْ إِلَىٰ نَصِيحَتِكْ Grazie mille e arrivederci arrivederci شكرا جزيلا وإلى اللقاء إلى اللقاء شكرا جزيلا وإنهار شكرا جزيلا أَسْتَرْوِ يَمْتَرْوِ